Creative Hub è un progetto strategico della Regione Puglia, fa parte di altri sei progetti che vedono appunto un'impostazione molto particolare perché prevede una serie di attività immateriali ma anche materiali quindi fisiche tra cui la realizzazione fisica di hub, quindi di strutture all'interno delle quali potranno essere attivate poi tutte le attività che incentivano l'industria creativa quindi la creatività. È un progetto che portiamo avanti nell'ambito del programma Interreg quindi in cooperazione con partner greci e mentre sul lato greco il tema oggetto del progetto diciamo la tematica principale è rappresentata da l'arte quindi dalle industrie creative, noi concentriamo l'attenzione invece sull'agricoltura e come l'agricoltura possa conciliarsi con le diverse forme di industrie creative. È un progetto nuovo per noi, è una forma nuova di sviluppo che si vuole dare al territorio, prevede al suo interno appunto anche delle attività di natura immateriale che portiamo avanti con degli enti con cui collaboriamo. Sono cinque soggetti pubblici, l'Università di Foggia, l'Università di Bari, l'Università del Salento, il CHIAM di Valenzano e la Camera di Commercio di Bari. Quindi assieme a loro abbiamo attivato tutti questi percorsi di sviluppo che saranno presentati oggi in questo Info Day. C'è una grande innovazione in atto e questa riguarda la commissione tra industria creativa e sviluppo rurale, politiche agroalimentari. Perché è una grande innovazione? Perché la creatività può essere un elemento chiave per generare pensiero laterale, per vedere le cose in maniera diversa e creare nuove visioni di sviluppo rurale. Tant'è che questi hub si configurano come dei luoghi di cooperazione dove la progettazione sociale tramite la metodologia del Living Lab, ossia dei laboratori viventi dove gli attori del territorio, le industrie agroalimentari, i produttori agricoli, gli esportatori, gli importatori e l'industria creativa collaborano per sviluppare nuovi percorsi di sviluppo locale. Quindi le opportunità di business che lei mi chiede in realtà, che riguardano il follow up del progetto, quello che questi hub faranno nel futuro è in realtà nella progettazione territoriale in un'atmosfera di cooperazione dal basso, dove l'università si pone come a supporto e fornendo la metodologia di lavoro. Il territorio co-progetta e soprattutto lo fa insieme all'industria creativa, che dà degli elementi innovativi, pensiamo al packaging, all'experience, pensiamo a tutte le cose che si stanno sviluppando attorno a questa commissione tra industria creativa e sviluppo rurale. Il contributo dell'Università del Salento, con cui prendiamo parte in maniera specifica con il gruppo di ricerca del Core Lab, coordinato dal professor Angelo Corallo, che è anche il responsabile scientifico di questo progetto, è orientato su tre filoni differenti. Innanzitutto abbiamo delle attività di ricerca molto interessanti, volte a studiare delle metodologie di co-innovazione basate sulla metodologia dell'open innovation del Living Lab, volte a favorire un tessuto imprenditoriale con una specifica applicazione nell'ambito dell'agri-food. Un secondo filoni di attività si è poi concentrato sull'ideazione e sviluppo di un percorso di formazione imprenditoriale, volto a giovani ragazzi pugliesi. Abbiamo coinvolto in particolare 33 ragazzi sul territorio e abbiamo erogato questo progetto di formazione su tematiche dell'imprenditorialità, andando a mettere insieme non solo competenze accademiche, ma inserendo delle lezioni fatte da businessmen dello scenario nazionale e regionale. Questi ragazzi hanno proposto una loro idea innovativa, sono stati selezionati, sono entrati a far parte di questo progetto di formazione e venerdì prossimo si sfideranno in una pitch competition, decreteremo i tre vincitori e la pitch competition sarà appunto venerdì a Lecce presso le officine Cantelmo. Ultimo ma non ultimo, poi ne parleremo anche nell'intervento di oggi, daremo il via a delle attività di supporto all'imprenditorialità grazie alla creazione di un hub presso il nostro polo universitario, volto appunto a fare attività di mentorship e di supporto nella fase di start-up di nuove imprese, sempre con focus sull'agroalimentare che è quello poi commissionato all'interno del progetto.